Se nella letteratura economica è famoso il termine gender pay gap, beh in Italia possiamo parlare di private pay gap. Sto parlando infatti del rapporto tra gli stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione nei confronti degli stipendi dei dipendenti del settore privato. Infatti in media tra il 1980 e il 2019 questo differenziale di questi due tipi di figure del settore privato e del settore pubblico è stata pari all'incirca al 28%. Significa che in media un lavoratore dipendente della pubblica amministrazione in questo arco di tempo ha guadagnato all'incirca il 28% in più rispetto al dipendente che lavora nel settore privato. Come abbiamo detto questo valore pari al 28% è una media e di conseguenza ha dei valori di picco e dei valori di minimo. Ad esempio i valori più alti sono stati raggiunti all'inizio del 1990 o addirittura poco prima della crisi finanziaria del 2008 quando il differenziale di ritribuzione ha superato il 35%. Però ha avuto anche dei minimi, ad esempio all'intorno verso la fine del 1980 o addirittura nel 2015 quando il differenziale è diminuito fino a raggiungere quasi il 20%. Quindi comunque nonostante questi picchi gli stipendi della pubblica amministrazione sono sempre stati più alti rispetto a quelli del settore privato. Ma com'è possibile che la situazione si sia ribaltata tra il 2009 e il 2015 quando nel 2009 c'è stato un vero e proprio picco nella ritribuzione media di dipendenti pubblici rispetto a quelli privati mentre nel 2015 c'è stato un minimo quindi il differenziale si è accorciato. Per rispondere a questa domanda dobbiamo innanzitutto sapere che il nostro stipendio viene aggiornato di tanto in tanto in base a diversi parametri tra cui l'inflazione e quindi lo stipendio viene adeguato all'inflazione corrente oppure alla produttività del settore o ancora altre dinamiche come ad esempio la forza contrattuale dei sindacati oppure a banalmente scelte politiche. Ebbene, tutto questo set di strumenti che fanno aumentare in media il vostro stipendio viene chiamato adeguamento contrattuale. Ebbene, tra il 2009 e il 2015 questi adeguamenti contrattuali sono stati bloccati anche a causa della crisi finanziaria che è stata partorita nel 2008 e così il differenziale tra il salario dei dipendenti della pubblica amministrazione rispetto ai dipendenti del settore privato è diminuito proprio a causa di questo blocco degli adeguamenti contrattuali finito solo nel 2015. Per compensare a questo blocco durato più di sei anni tra il 2016 e il 2018 è stato ripreso un nuovo adeguamento contrattuale anche abbastanza generoso. Se infatti in questo triennio l'indice dei prezzi di riferimento è aumentato dell'1,8% ebbene, i stipendi della pubblica amministrazione sono aumentati del 6,1% contro il 2,2% degli stipendi del settore privato. Grazie alle due ultime leggi di bilancio non ci siamo fatti mancare dei nuovi adeguamenti contrattuali in particolar modo per la pubblica amministrazione. Infatti tra il triennio 2019 e 2021 ci si aspetta un adeguamento di questi contratti per i dipendenti pubblici pari al 6,5% contro un'inflazione prevista in questo triennio pari all'1,8%. Se invece andiamo a guardare gli stipendi del settore privato ci sono vari scenari in quanto non è ancora chiaro come potranno evolvere gli stipendi del settore privato in questo triennio. Ma se prendiamo tutti e tre gli scenari da quello più positivo a quello meno positivo vediamo come il differenziale del rapporto tra retribuzioni pubbliche e private aumenterà in questo triennio fino a superare la media che si è avuta tra il 1980 e il 2019 pari al 28% e quindi superando alla fine del 2021 ci si aspetterà un differenziale pari ad oltre il 30% quando in realtà nel 2015 si era avvicinato al 20% quindi sì, in Italia si può tranquillamente parlare di private pay gap Ma ora parliamo di Brexit perché in un video che ho fatto all'inizio gennaio dove parlavo proprio di Brexit dal 2016 ad oggi facendo un breve riassunto dal punto di vista economico sottolineavo il fatto che in realtà Brexit non è veramente finita e lo vediamo anche dalle ultime notizie di questa settimana infatti la piazza del Parlamento situata a Londra è stata invasa da camion pieni di pesce e crostacei era una vera e propria protesta nei confronti di Brexit e quello che sta causando soprattutto al settore ittico ma non solo abbiamo già parlato infatti che grazie all'accordo del 24 dicembre non ci sarebbero state tariffe doganagli tra Regno Unito e Europa e questo ovviamente avrebbe giovato al commercio tra le due parti però abbiamo specificato anche che se è vero che non ci saranno tasse per import ed export tra il Regno Unito e l'Unione Europea è vero anche che sono emerse delle barriere non tariffarie sostanzialmente sono state riaperte le dogane e quindi una volta che la merce deve uscire dal territorio britannico deve anche sottostare a determinate regolamenti imposti dall'Unione Europea quindi presentare documenti attestati di origine, dichiarazioni doganali eccetera eccetera ovviamente questo fa allungare i tempi per poter attraversare la dogana e quindi raggiungere il mercato europeo e questo è un problema soprattutto per quanto riguarda il mercato ittico o quello della carne che richiedono dei prodotti freschi oppure addirittura freschissimi come appunto quelli del pesce e tutte queste lungaggini burocratiche dovute proprio a Brexit hanno causato ingenti danni a questi settori in quanto molti commercianti sono stati costretti a buttare le merci perché appunto non erano più fresche e quindi i consumatori europei non erano più disposti a comprare quelle merci è interessante notare anche come tutte queste problematiche dovute a Brexit siano state attenuate dalla pandemia infatti i vari lockdown hanno rallentato l'economia e l'export delle varie nazioni di circa il 20% e tutto ciò ha agevolato la situazione infatti in un mondo senza pandemia gli scambi commerciali avrebbero intasato ancora di più le dogane tra Regno Unito e Europa e avrebbero generato ancora più problemi da entrambe le parti in questa settimana parlando di Brexit si è parlato anche del suo impatto per quanto riguarda il mondo finanziario infatti come vi accennavo anche nel video in cui parlava appunto del nuovo deal tra Unione Europea e Regno Unito in realtà in questo accordo si parlava principalmente degli scambi commerciali e dei movimenti del movimento dei servizi ma nulla si è detto per quanto riguarda il mondo finanziario e appunto i servizi finanziari sostanzialmente per quell'aspetto dal 1 gennaio 2021 è avvenuta una vera e propria hard Brexit con alcun accordo in essere al momento quindi ad oggi si sta parlando di come determinate aziende finanziarie si stiano muovendo dal Regno Unito o in Irlanda o in Europa proprio per continuare a commerciare con il mercato europeo riguardo questo argomento le preoccupazioni non sono poche in quanto non solo Londra è fondata sul mondo finanziario ma una buona parte anche del PIL di tutto il Regno Unito è derivante proprio da questo aspetto del mondo finanziario e assicurativo lo stesso Boris Johnson ha ammesso che per quanto riguarda questo aspetto gli accordi su Brexit non hanno aiutato ora stiamo ancora parlando di movimenti di poche persone e di un capitale ancora minimi però sta da vedere se in futuro questo è solo l'inizio di un più grande movimento di trasloco di tutto il settore finanziario da Londra alle principali città europee oppure è solo un piccolo assestamento magari che potrà essere interrotto con ulteriori accordi futuri tra Europa e Regno Unito anche e soprattutto riguardo questo aspetto del mondo finanziario in poche parole come già vi dicevo Brexit è tutto meno che finita Biden è ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America e fin da subito si è rimboccato le maniche infatti è rientrato nell'accordo di Parigi per quanto riguarda il clima è rientrato nell'OMS e ha istituito ulteriori provvedimenti che vanno in una direzione completamente opposta rispetto a quella di Trump per quanto riguarda l'economia ha subito pronto un piano pari a 1900 miliardi di dollari che dovrà presentare al congresso in questi giorni questi 1900 miliardi pensati da Biden hanno l'obiettivo di sostenere l'economia durante questa crisi pandemica in particolar modo 400 miliardi sono per combattere il coronavirus con più vaccini e più test per monitorare appunto la situazione pandemica 1000 miliardi verranno utilizzati per sostenere le famiglie in difficoltà economica durante questa pandemia attraverso dei sussidi di disoccupazione attraverso dei crediti fiscali oppure ancora una contestata politica economica di Biden cioè quella di voler aumentare il salario minimo a 15 dollari l'ora mentre gli ultimi 400 miliardi dei 1900 miliardi verranno indirizzati verso le imprese per sostenerle e per cercare di attraversare nel migliore dei modi questa crisi economica dovuta al coronavirus ovviamente questo pacchetto economico dovrà essere votato dal congresso e non sarà l'unico infatti Biden ha dichiarato che a febbraio inaugurerà un ulteriore pacchetto economico che servirà non a sostenere l'economia durante la crisi dovuta al coronavirus bensì a rilanciarla nella fase successiva alla pandemia saremo ovviamente a vedere quale sarà il piano per rilanciare l'economia nel futuro da parte di Biden e ora invece parliamo di vaccino lo so in teoria non dovrei parlare di vaccino in quanto non sono minimamente competente infatti il mio consiglio è quello di seguire cosa dice la comunità scientifica e cioè quello di vaccinarvi in realtà non parliamo di vaccino e del suo funzionamento bensì della distribuzione del vaccino in particolare in tutto il mondo ne ho parlato in un post su Instagram proprio oggi ma vorrei parlarne bene infatti il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità durante una conferenza avvenuta il 18 gennaio ha testimoniato come più di 39 milioni di dosi di vaccino sono state distribuite in 49 paesi tra i più ricchi del mondo mentre 25 dosi non 25 milioni non 25 mila ma solo 25 sono arrivate ad uno dei paesi più poveri al mondo nove mesi fa le principali nazioni del mondo hanno diritto ad un'iniziativa internazionale dal nome COVAX che aveva l'obiettivo quello di distribuire le dosi vaccinali in modo ego tra tutti i paesi del mondo in modo da evitare che qualche nazione possa rimanere esclusa da questo piano vaccinale mondiale purtroppo però nel frattempo soprattutto le nazioni più ricche del mondo stanno prendendo degli accordi commerciali direttamente con le case farmaceutiche che stanno producendo il vaccino e questo ha reso una grande ingiustizia e un grande squilibrio nella distribuzione del vaccino che sta avvenendo di fatto in base al PIL e non in base alle richieste in modo omogeneo di tutto il mondo questo non comporta solo dei problemi etici ma anche economici e anche sanitari infatti nonostante noi ci stiamo sbracciando per poter comprare più dosi del vaccino possibili questo comporta ovviamente dei problemi alle nazioni meno ricche o che hanno meno disponibilità nel poter accaparrarsi i vaccini questo comporta una maggior probabilità all'interno proprio delle nazioni che non si stanno vaccinando adeguatamente a una diffusione maggiore del virus e una maggior probabilità che questo virus possa mutare tutto ciò può avere un risultato controproducente rispetto alle aspettative che stanno avendo le nazioni più ricche nell'affrettarsi al vaccinarsi prima possibile se infatti le nazioni più ricche possono vaccinarsi tranquillamente ebbene la diffusione del virus e un aumento delle probabilità di mutazione del virus può avvenire tranquillamente nelle nazioni meno ricche in cui appunto il piano vaccinale non sta proseguendo nella giusta maniera e questo comporta ovviamente dei danni sanitari in quanto il prolungamento della pandemia potrebbe essere più probabile e ovviamente anche le ripercussioni economiche anche in quanto saremmo costretti ancora una volta a indurre dei lockdown che ovviamente indeboliscono l'economia quindi diciamo che l'approccio egoista come dice anche il direttore dell'OMS Me First non è un approccio nel lungo periodo vincente e in questo senso ci ho visto anche molta ipocrisia in quanto tutti si sono scandalizzati quando è saltata la polemica riguardo la correlazione tra dosi vaccinali e pil all'interno delle regioni italiane però poi a chi più in Italia si affretta a dover reclamare più dosi vaccinali per l'Italia non sapendo in realtà che questo problema di pil e vaccini sta avvenendo nel mondo e può avere delle ripercussioni enormi ma ora torniamo in Europa in quanto giovedì 21 gennaio c'è stata la conferenza stampa della Banca Centrale Europea durante la conferenza stampa sostanzialmente la politica monetaria della BCE è rimasta espansiva e fino per almeno fine marzo del 2021 per quanto riguarda il PEPP che sarebbe il piano d'acquisto di titoli di debito sia pubblici che privati nel contesto della pandemia e ha comunque dichiarato che la politica monetaria rimarrà espansiva per quanto l'economia ne avrà bisogno soprattutto per quanto riguarda il settore finanziario che ha il compito di poi sostanzialmente trasferire questa politica monetaria a imprese e famiglie elargendo prestiti un'altra notizia viene anche qui dall'Europa che è stata proposta di prolungare il periodo di abolizione della regola dell'aiuti di Stato fino al 31 dicembre 2021 anche qui probabilmente verrà accettata questa proposta se non addirittura prolungata in quanto se la Banca Centrale Europea prevede che per almeno il 31 marzo 2022 la situazione pandemica non avrà fine allora a questo punto mettere in vigore gli aiuti di Stato prima di questa data credo che sia una politica non del tutto conforme alle esigenze a questo punto un'ulteriore notizia sempre per quanto riguarda l'Europa è il fatto che è uscito il bilancio della BEI la Banca Europea per gli Investimenti che durante la pandemia ha aperto un piano di finanziamento per le imprese pari a 100 miliardi ebbene nel 2020 l'Italia è stato il primo beneficiario di questi prestiti proprio provenienti dalla Banca Europea per gli Investimenti con un totale di quasi 12 miliardi di euro l'8,2% in più rispetto al 2019 di questi 12 miliardi 10,9% sono prestiti e 1,4% sono di finanziamenti inequiti o garanzie per quanto riguarda le imprese italiane come abbiamo detto l'Italia si è giudicata il 17,9% dei 66,6 miliardi di finanziamenti erogati solo nell'anno del 2020 che appunto è stata la cifra maggiore in tutta Europa surclassando la Francia con un importo pari a 10 miliardi e la Spagna con un importo di 8,5 miliardi provenienti appunto dai finanziamenti della Bay l'ultima notizia per oggi deriva da uno studio fatto dall'Associazione dei Mercati Finanziari Europei e da PVC che indica come per quanto riguarda gli ammanchi di capitale nell'azienda dell'Unione Europea si attestano all'incirca pari a 1.000 miliardi di cui 175 sono ammanchi di capitale di imprese italiane 220 della Francia 190 della Germania 155 miliardi sono i soldi che mancano nei capitali delle imprese da parte della Spagna ebbene secondo questo studio nei prossimi due anni dai 400 ai 550 miliardi sui 1.000 miliardi di buco di bilancio delle imprese europee saranno disponibili all'interno dei mercati finanziari quindi sostanzialmente l'allerta di questo studio è il fatto che mancano ancora tra i 450 e i 600 miliardi di cui le imprese hanno bisogno per poter superare agevolmente questa crisi economica dovuta alla pandemia e quindi il monito è sostanzialmente quello di agevolare finanziamenti in modo da non avere ripercussioni anche di lungo periodo a causa di questa crisi signori la puntata del podcast di oggi finisce qui vi ringrazio per avermi seguito e in particolar modo ringrazio gli abbonati che sostengono questa attività di divulgazione e sempre mi danno supporto in tutto quello che faccio e comunque hanno anche loro una serie di benefici tra cui ad esempio l'accesso al canale Telegram contenuti esclusivi approfondimenti eccetera eccetera se ne volete sapere di più e volete unirvi a questa community di abbonati tutte le informazioni le trovate sul mio canale YouTube detto ciò ci vediamo alla prossima puntata e buon weekend e buon weekend